ciao a tutti e benvenuti a una nuova fantamagus news qui da milano davide da fantamagus milano e in collegamento invece dal proprio negozio di fantamagus monza abbiamo max ciao max ciao tutti ciao allora innanzitutto io partirei informando subito coloro che ci guardano che c'è una novità allora abbiamo deciso con max di unire l'uscita del del video quindi troverete sempre lunedì alle 13 30 la puntata sul canale facebook e in contemporanea sul canale di youtube in realtà quello che vedrete sulla pagina di facebook sarà un link a il canale di youtube perché abbiamo visto che nelle ultime ore ci sono stati dei problemi di caricamento sulla pagina quindi preferiamo a questo punto diciamo usare le nostre i nostri sforzi in un'unica direzione quindi utilizzeremo il canale di youtube e poi faremo un link direttamente alla pagina di fantamagus milano e ovviamente i fantamagus monza o comunque i nostri negozi linkeranno direttamente il link al al video e la fantamagus news della settimana bene allora io partirei subito con quindi le novità max visto che adesso abbiamo che abbiamo avvisato un po di questa modifica e tecniche esatto come modifiche tecniche modifiche tecniche esatto però almeno adesso sapete sapete esatto che cosa dovrete fare bene allora partiamo con le novità della settimana e partiamo con le novità dei magic store ms edizioni allora abbiamo un gioco che si chiama regno delle sabbie che un gioco che va da 1 a 4 giocatori ed è un gioco di sostanzialmente possiamo chiamare di strategia di difficoltà media la durata di 30 60 minuti in cosa consiste il regno delle sabbie i giocatori dovranno alla fine della partita ottenere più punti stella come otteniamo i punti stella sostanzialmente sul nostro tavolo viene creata una plancia con una serie di carte dove su queste carte ci sono degli edifici con sotto sostanzialmente come possiamo dire delle basi delle fondamenta delle planimetrie quasi i giocatori durante il proprio turno hanno due fasi in quella prima fase dovranno recuperare dei pezzi che vediamo qua intorno che vengono messi intorno alla plancia con tutte le carte in stile tetris quindi non so troveremo una specie di l piuttosto che pezzi da due da tre che dovremo ovviamente piazzare sulla nostra plancia ognuno di noi ha una plancia con uno schema bianco quello lo schema bianco praticamente sono i vincoli che avremo all'inizio della partita e dovremo piazzare questi pezzi di tetris all'interno di questi spazi bianchi successivamente nei turni dopo ci sarà anche la possibilità comunque di poter uscire seconda fase possiamo usare gli spiritelli che sono sostanzialmente dei token rotondi che praticamente come se andasse ad occupare un solo quadrato cosa succede se durante il proprio turno un giocatore quando ha piazzato appunto durante la prima fase il pezzo tipo tetris piuttosto che lo spiritello nella seconda fase se riesce a riprodurre sostanzialmente la figura dell'edificio che c'è sulla sulla plancia non farà altro che prendere la carta questa carta avrà appunto dei punti stella dei punti clessidra e in più potrà fornire dei nuovi spiritelli che ci saranno utili durante la partita quindi cosa succede il gioco prosegue così fino a quando un giocatore che ha messo da parte tutte le carte non arriva a 10 punti clessidra e la partita termina e andremo a contare i punti stella sempre rappresentati sulle stesse carte questo è il regno delle sabbie edito da ms edizioni e io anch'io ne ho sentito parlare molto bene a delle ottime recensioni a un bel tetris sostanzialmente con alcuni elementi insomma che lo rendono molto più strategico è interessante puzzle game ecco l'unica cosa che si è l'unica cosa che non ho detto che va bene quanto per prendere i pezzi del tetris va bene c'è qui una pedina regina che si muove e quindi c'è una condizione per cui poter prendere i pezzi ecco era l'unica cosa che ho dimenticato da aggiungere però la sostanza comunque è quella che ho detto prima diciamo del gioco ne aveva parlato credo anche anche miss meeple la nostra amica miss meeple che salutiamo ciao ciao tra i suoi giochi consigliati infatti era uno di quelli che tenevo d'occhio anch'io ok io invece vi parlo dell'altro gioco che ha presentato che presenta in realtà questa settimana ms edizioni è si chiama anamikoji è un gioco taiwanese viene dall'oriente e come si capisce anche dal dal nome ci porta in realtà in giappone è un gioco per due giocatori proprio specificamente per due giocatori dalla durata di 15 minuti quindi è sostanzialmente un piccolo figuerino che possiamo giocare in due quando insomma siamo è anche trasportabile direi quindi abbastanza comodo da apparecchiare e appunto siamo in giappone anamikoji è il nome della famosa via che nella capitale del giappone antico diciamo era sostanzialmente la via dove si trovava le geisha e noi essendo dei buon gustai frequentatori di questi di queste artiste insomma le geisha sono appunto delle delle artiste ballerine danzatrici cioè danzatrici appunto facevano teatro insomma molte cose noi praticamente cercheremo di ingraziarci il loro favore presentandogli presentandogli degli oggetti che di cui loro correzionano il meccanismo del gioco fondamentalmente ci farà utilizzare delle carte che noi andremo a giocare durante durante il nostro turno in vari modi ogni turno praticamente avremo quattro azioni da svolgere che ci permetteranno di giocare le carte nella nostra mano in vari modi alcune azioni ci permetteranno di mettere per esempio coperte davanti ad alcune geisha e altri permetteranno di riveranne alcune e fare in modo che gli avversari ne scelga nell'avversario ne scelga alcune da mettere in vari modi su le varie geisha eccetera tutto questo praticamente farà sì che alla fine di ogni round avremo nella fase di punteggio andremo a controllare il giocatore che ha messo più punti quindi più carte corrispondenti ad ogni geisha quindi carte oggetto corrispondenti ad ogni geisha e chi ne ha messi di più ovviamente otterrà i suoi favori la partita termina immediatamente quando un giocatore riesce a ottenere il favore di quattro geisha oppure quando arriva a fare un tot di punti fascino che è l'altro modo sostanzialmente per vincere la partita è un bel giochino di sostanzialmente piazzamento tessere cioè piazzamento carte in maniera segreta che ci permette di essere una cosa che poi dentro una partita ci sono quattro modi diversi per piazzarli in ogni turno quindi insomma è abbastanza articolato come come cosa dalle dinamiche non troppo difficili comunque ma sicuramente interessanti poi l'ambientazione è molto bella i materiali sono carini le illustrazioni sono proprio a tema anche se ho guardato le illustrazioni variano tra alcune che sembrano delle rappresentazioni non so adesso magari riesco anche a farvi vedere che alcune sembrano delle insomma delle rappresentazioni tradizionali no dei quali tradizionali magari giapponesi ecco per esempio magari tipo questa qua non so se riesco in quadra bene e altre tipo questa qua dietro che in realtà sembrano usciti da un manga giapponese quindi c'è anche un po questa cosa va bene ok questo è a namikoji quindi gioco per due giocatori che presentiamo insomma questa settimana ok con ms abbiamo terminato davide sì allora vediamo le novità invece della casa editrice asmode allora in realtà non ci sono giochi nuovi per questa settimana ma abbiamo due espansioni allora una per quanto riguarda al camorro il gioco di carte che è punto di non ritorno ed è il quarto capitolo diciamo pack mito della della saga e divoratori di sogni quindi prosegue ovviamente come già ben sapete normalmente oltre a sette deluxe escono altri sei pack mito questo è il quarto altra cosa invece altra scusate espansione per quanto riguarda invece in marvel champions il gioco di carte anche lui questo è squadra demolizione è un pack scenario che praticamente i giocatori dovranno cercare di impedire la fuga della prigione di questa squadra demolizione che è composta da lo leggo demolitore pile driver bulldozer e thunder ball sono i quattro cattivi che dobbiamo cercare di fermare quindi ovviamente anche per questa espansione è necessario il gioco base che anche oltretutto appena rientrato e sembra che stia ancora finendo purtroppo max quindi dobbiamo farne scorta questo su questo titolo io consiglio sempre di pre ordinare anche le espansioni insomma tutto quello che poi se volete perché c'è purtroppo questa tendenza di andare sempre in esaurimento immediatamente quindi sicuramente solete essere sicuri di avere i prodotti è sempre bene su marvel champions è proprio necessario quasi sostanzialmente pre ordinare tutto perché purtroppo questo momento stanno sempre tutto esaurito finisce quasi tutto in pre ordine sta finendo bene vuoi quindi parlare poi tu della novità grossa settimana quella che abbiamo già visto in passato e che viene riproposta che cosa cosa viene riproposto questa settimana sì allora cranio ci ha un po stupito con ha ripresentato una offerta che aveva già fatto alla fine dello scorso anno ovviamente la ripresenta su dei nuovi titoli è la nuova cranio gran riserva ed è sostanzialmente un'offerta eccezionale e straordinaria su una selezione di titoli del suo catalogo che vengono scontati fino a veramente degli sconti pazzeschi come la scorsa volta ci ha insegnato anche qui io non è che lo faccio per per invitarvi a comprare i prodotti non comprateli se non vi interessano però se nel caso vi dovesse interessare qualcosa visto che anche l'ultima volta abbiamo visto clienti che sono venuti a chiederci prodotti che poi sono esauriti praticamente nel giro della settimana in cui sono sono uscita l'offerta mi raccomando pre ordinate tutto quello che vi può essere insomma di utile o comunque di interesse allora vediamo rapidamente i giochi in offerta questa volta da da cranio creation sono a voi la scelta che è un party game molto semplice che viene scontato a 10 55 per cento di sconto poi abbiamo un grande class si 55 per cento di sconto poi abbiamo un grande classico che è una versione di nome in codice in particolare la versione duetto quella nella scatola verde tanto per capirci che è appunto la versione come dice la parola stessa per giocare a nome in codice in due fatto apposta poi abbiamo passiamo dei giochi veramente invece più più importanti sia come come dimensioni ma anche proprio come anche diciamo per giocatori più esperti insomma per appassionati sono pulsar 2849 che anche qui scende a 30 euro perso 30 euro 40 per cento di sconto un pezzaccio poi abbiamo i coloni i coloni uscito anche questo mi sembra 2000 recente come gioco 18 circa nel centro è sì un german game c'è un gioco gestionale tratto basato su piùere scatola strapiena di materiale partita che va tranquillamente sulle due tre ore gioco veramente importante che è spesso posto 35 per cento di sconto dobbiamo dire nient'altro sì è l'ultimo di questi titoli è 13 giorni la crisi dei missili di cuba qui stiamo parlando di un gmt gioco della gmt sicuramente un gmt di quelli un po più light rispetto a insomma altri altri titoli più classici di questa casa editrice è un gioco per due giocatori che praticamente ci riporta a rivivere uno nei panni ovviamente dei sovietici uno nei panni degli statunitensi la crisi dei dei missili su cuba prezzo 15 euro prezzo ovviamente super scontato questo gioco vi arriverà tra l'altro completo del kit replacement con i pezzi in regno all'interno quindi ecco un kit veramente c'è un gioco veramente anche poi sistemato con il kit con tutte le componentistiche in regno forse i più fortunati avranno anche modo di avere l'almanacco storico che non è disponibile per tutti quei che sì perché purtroppo abbiamo avuto notizia da parte di cranio che tutte le copie di 13 giorni non avevano il corrispondente numero di almanacchi quindi per i primi riusciremo a dare la versione come detto tu con materiali in legno e almanacco poi quelle copie che rimarranno l'almanacco purtroppo non ci sarà quindi è una notizia non è non è bellissima però anche dovevamo dirlo comunque 13 giorni rimane comunque a 15 euro interessantissimo anche senza ovviamente l'almanacco quindi bene assolutamente io direi che per tutti quelli curiosi di provare un gioco gmt in ogni caso 13 giorni a una una valida scelta perché potevano provare un'esperienza di un gioco gmt non troppo complicato eccetera c'è un gioco comunque anche della durata contenuta era interessantissimo è sempre stato interessantissimo ma a questo prezzo qua c'è veramente se volete provare un gioco gmt a questo prezzo qui ma comunque abbiamo visto che le promozioni di queste cranio gran riserva hanno sempre avuto un grande successo infatti oltretutto il discorso cioè quello che bisogna poi capire è che quando cranio creation si mette a fare queste promozioni molte volte poi perché i titoli non verranno più stampati quindi diciamo ci sono anche due vantaggi non si non si compra soltanto un titolo scontato ma probabilmente un titolo che poi non vedremo non vedremo neanche più quindi è una doppia diciamo una doppia motivazione per acquistare questi titoli bene allora per questa settimana le novità sono sono tutte ne abbiamo dette tutte quante vi rinnovo ovviamente l'invito a guardare la prossima puntata se vi è piaciuta a questo punto mettete direttamente iscrivetevi al canale di youtube e attivate la notifica cliccando sulla campanella perché questa è la grossa novità quindi ci vedrete sempre lunedì alle 13 30 ci vedrete sul canale di youtube e linkeremo il la puntata sulla pagina facebook dei nostri negozi vi ringrazio ancora dell'attenzione del tempo che ci avete dedicato e ci vediamo settimana prossima ciao a tutti ciao max